Sì, fondamentale perché allunghiamo, siamo sei punti sopra i play-out, mancano tre partite, ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo che ci siamo prefissati tutti quanti nello spogliatoio un paio di mesi fa, che è quello della salvezza. Chiaramente è bello, è appagante, ti fa sentire appagato perché, come avete detto prima, ho fatto due o tre mesi a non giocare, però non ho mai mollato, mi sono sempre allenato al 100%, sempre in attesa di una possibilità. Poi ringrazio tantissimo il mister della nazionale albanese Under21 che mi ha chiamato due settimane fa, sono andato lì, ho giocato e adesso mi è stata data la possibilità anche qui. Ho cercato di mettere tutto quello che avevo in campo per aiutare la squadra a vincere la partita e a prendere i tre punti. Con la difesa A5, con il 3-4-3-3-5-2, indifferentemente, sono dieci metri più avanti, invece con la difesa A4 ho compiti più difensivi, invece io, per tipologia di calciatore che sono, amo di più attaccare che difendere e quindi con A5 mi trovo molto, molto, molto meglio. È stata un'annata che mi ha insegnato tanto, come prima esperienza tra i professionisti ho imparato davvero tantissimo, poi Teramo è una piazza molto, molto bella, i tifosi, io a Olbia non c'ero perché ero in nazionale, ma c'erano tifosi pure a Olbia, quindi è stata un'annata da cui ho imparato tanto ed è una piazza veramente molto, molto, molto bella.